perché Maria l'altro percorso tra un urla e un'altra me ne sono andata e non ti ho salutato e lì le restrizioni non c'erano oggi non posso salutarti quindi non devi evitare che ti magari incontri in una qualche parte e t'abbraccio se oggi posso grazie grazie da ogni angolazione possibile di questo termine io ti dico grazie a nome che anche mi sento la responsabilità di potertelo dire da tutti noi perché senza la vostra genialità ma è riduttivo Maria senza di voi il mio cuore non avrebbe avuto risposte questo è poco ma sicuro è veramente basta basta Giovanna basta cioè voglio dire non è un addio per sé no no io vengo eh io torno eh ho usato la scusa perché ho lasciato un po' di cose qua tipo la e allora ho detto posso tornare a riprenderla poi perché oggi non mi vado a venire con la valigia ma non è vera era una scusa perché volevo tornare comunque stai serena però grazie veramente grazie a te davvero grazie a te di averci creduto di averci regalato tante emozioni vere grazie a te la grazie a te la grazie a te la